Il Bari ha scelto il successore di Gianni Cornacchini. Vincenzo Vivarini, 53enne abruzzese e il nuovo allenatore dei Biancorossi, toccherà all'ex tecnico dell'Ascoli dunque risollevare le sorti di una squadra che ha deluso le attese della vigilia in queste prime giornate del campionato di Serie C, sia dal punto di vista dei numeri, sette punti collezionati in cinque partite che sul piano delle prestazioni. Inevitabile dare una scossa dopo la sconfitta di Francavilla Fontana contro la Virtus. Vivarini esordirà sulla panchina del Bari già domani sera alle ore 20.45 nel derby che si giocherà al San Nicola contro un Monopoli decisamente in salute. Discreta nel complesso la prova dei Biancorossi al Giovanni Paolo II, molto brava però la Virtus a tenere in equilibrio la sfida anche grazie alla superlativa prestazione di Jack Poluzzi all'esordio tra i pali. Molto brava la squadra di Bruno Trocini poi a colpire ad un quarto d'ora dal termine con Mastro Pietro. Gol pesantissimo il suo che vale a Francavilla il primo successo in questo campionato e il terzo risultato utile consecutivo. Rialza la testa al partenio Lombardi di Avellino invece il Biceglie che mette fine alla serie di sconfitte due di fila ottenendo tre punti di prestigio in trasferta. Rete decisiva del solito gatto all'alba della ripresa. Continua nel frattempo il buon momento del Monopoli dopo il blitz di Terni. Ecco un altro successo di prestigio questa volta al Veneziani. 4 a 2 contro un Catania molto quotato almeno sulla carta. Perfezionato così l'aggancio in classifica quota 9 punti ai siciliani. Una rete per parte nella frazione inaugurale. Carriero porta in vantaggio i padroni di casa. Mazzarani pareggia per gli ospiti. Ripresa davvero scoppiettante. Sorpasso Catania con Rizzo in apertura. Poi solo Monopoli che pareggia i conti con Piccini. Rimette la freccia con Fella e mette il punto esclamativo con Donna Rumma allo scadere. Monopoli migliore Pugliese in classifica. Doppio pareggio invece per le due Lucane. Entrambe con un gol per parte. 1 a 1 tra Rieti e Potenza. Il neo entrato Bullet ci risponde al vantaggio di Marcheggiani per i laziali. Idem tra Picerno e Casertana. Castaldo illude i campani. Il solito Santaniello rimedia nel finale di partita per i padroni di casa. Domani si torna in campo per il turno infrasettimanale della sesta giornata. Oltre a Bari Monopoli si giocheranno alle ore 18.30 a Biceglie Casertana ed Avellino Virtus Francavilla. Picerno infine in campo alle 16 a Vivo Valencia. Potenza impegnato alle 20.45 a Viviani con la Sicola Leonzio.